Metteva in vendita oggetti di vario tipo sui principali portali di e-commerce, stabiliva un contatto con l'acquirente, concordava le modalità di pagamento, ma al momento del saldo non inviava alcun che rendendosi irreperibile. È accaduto a Messina, dove la squadra mobile ha eseguito ieri la misura cautelare degli arresti domiciliari messa dal Tribunale di Messina a carico di un 31enne messinese per truffa. Le indagini hanno permesso di ricostruire un numero allarmante di episodi di truffa messi in atto dal 31enne, in un arco temporale che va dal 2018 sino a pochi mesi fa, episodi che si sono ripetuti nel tempo con le stesse modalità. È riuscito così a farsi pagare somme ingenti, dai 400 ai 1000 euro circa, per oggetti quali borse griffate, telefonini, elettrodomestici, persino attrezzi per la pesca, in realtà mai esistiti o quantomeno mai recapitati alle vittime della truffa. A patti la polizia ha disposto ancora gli arresti domiciliari sempre per truffa. È stato accertato che due giorni fa un uomo si è recato presso una rivendita di tabacchi di patti e ha chiesto una ricarica su carta post-pay. Al momento del saldo, quando i diversi tentativi di pagamento non sono andati a buon fine, ha provato ad allontanarsi scenando un preciso copione, dicendo di doversi recare in ospedale mostrando il braccio fasciato. Il dipendente dell'esercizio commerciale ha compreso quanto stava accadendo e ha chiesto l'intervento della polizia di Stato. I poliziotti hanno accertato come i documenti forniti a garanzia fossero in realtà intestate ad altri e che la carta di credito utilizzata per il pagamento non andata a buon fine fosse stata bloccata con uno scoperto di migliaia di euro e non fosse riconducibile in alcun modo al saldo mostrato al dipendente con un attivo di 900 euro. Inoltre, l'auto utilizzata dal truffatore era stata noleggiata per garantirsi l'impunità. Infine, a Capodorlando, la polizia ha sequestrato piante di cannabis e sostanza stupefacente dello stesso tipo rinvenute presso l'abitazione di un 42enne. L'uomo è stato denunciato per il reato di detenzione fili di spaccio di sostanza stupefacente.